Ovviamente originali, innanzitutto perché cantate in italiano, che di questi tempi, soprattutto con il nome in inglese, un'immagine che voi cantate in perfetto linguaggio albionico, invece cantate in italiano. Perché è Rock Targato Italia, vero? Eh sì, Rock Targato Italia è stata praticamente la spinta, il trampolino che ci ha poi dato quell'energia, che ci ha permesso di fare tutto quello che abbiamo fatto. Perché l'anno scorso ci siamo iscritti per gioco e alla fine siamo riusciti a vincere questo concorso. Per le voci nuove e indipendenti. Sì, sì, e quindi questa cosa qua ci ha fatto fare delle cose veramente importanti. Questo video voi l'avete girato a Novellara, in provincia di Reggio, patria dei nomadi, nell'ambito di un format televisivo davvero bello, no? Sì, questo format televisivo... Che circola per le tv locali in tutta Italia. E praticamente è un progetto di Max Devil, che è quello che praticamente produce i gadget per Ligabue e tutto quell'entourage, tutto quel movimento lì. Praticamente hanno ideato un programma che si chiama Special One e ci hanno invitato. Noi siamo stati onorati e orgogliosi di partecipare. C'erano anche i nomadi poi? Quel giorno no, però diciamo che abbiamo suonato nella stessa location. Ma sì, anche perché i nomadi sono ovviamente proprio lì, di questo paese, di Novellara, in provincia di Reggio. So che avete un album nuovo, vero? Siamo in studio. Stiamo lavorando... Che fa figo dire che siamo in studio. Sì, è vero. Prima però... Però è vero, per la prima volta è vero. Siamo in studio. Questa volta è vero. Perché le altre volte dovravate in cantina. No. Dove siete in studio? Ma siamo in una zona storica di Torino, che sono i docks di Torino. Lì veramente l'arte si respira. Cioè ai Murazzi? No, i docks d'ora sono... I docks d'ora. Ah sì, sì, la zona di Lungodoro. Lì soprattutto, ma in tutta questa città che è fantastica, Torino in questi anni sta dando veramente molto a tutta la scena underground. Indipendente. Musicale. Quindi veramente noi siamo orgogliosi anche di portare questo in giro durante i nostri concerti. Però l'orgoglio della città. Se avete lo studio vuol dire che c'è già un salto di qualità, no? Sì. Cioè vorreste fare il salto di qualità? Noi vorremmo fare il salto. Ma sarebbe il primo album? Sarebbe il primo album. Come si dice album. Sì, allora in realtà sarà un... Noi lo chiamiamo disco, ma oggi fa figo dire EP. EP nasce dal fatto che un album ristretto sarà un album di 4-5 pezzi, perché fare un album di 10 costa troppo. Perché noi siamo una band che... Cioè le idee ce le avreste. Le idee le abbiamo. E anche i pezzi. Anche i pezzi, ci mancano i soldi per realizzare un album di 10 pezzi. Quindi come tutta la scena indipendente, le band come la nostra che si autoproduce, partiamo con l'EP. Ecco perché indipendente vuol dire che non avete una grande casa discografica alle spalle, no? Sì. Subito, DTC. Un po' come fa Manu Ciao, no? Che fa tanto i ribelli e poi firma il contrattone con la multinazionale. Tra un attimo vediamo l'altro brano, tratto sempre da Special One, che è che poi tanto lo sai. Alessandro, tu cantavi Super Donna. A chi è dedicata questa canzone? Super Donna è dedicata a tutte le persone che hanno un sogno. Che hanno un sogno e lo tengono dentro e poi a un certo punto esplodono e lo fanno vedere nelle loro serate di travestimento. Fanno vedere effettivamente chi sei dentro. Cioè chi sei veramente al di là della maschera. Non è dedicato né alle donne né agli omosessuali, ma a tutti noi. A tutti noi che abbiamo qualcosa dentro, che ogni tanto facciamo vedere e si vede lo spettacolo. Che poi è un po' il tema ricorrente dei nostri testi, cioè tutte quelle persone che vogliono apparire agli occhi della gente in un certo modo, ma poi nella realtà dei fatti, quando si spegne il sipario, si chiude la porta di casa, le situazioni cambiano e quindi c'è tutto un underground che si muove dietro alla personalità di ognuno di noi. Noi.